Ivan Costantini, Sindaco di Giulianova, coordinatore provinciale della Lega, è qui a festeggiare per la vittoria di Camillo D'Angelo, nuovo Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare Massimo Magnoni che ha fatto un risultato importante perché si è avvicinato al 18-19%, è evidente però che sono anche contento della vittoria di un amico che è Camillo D'Angelo, un rapporto amicizia che ci lega anche al di là della politica. Insomma poi quest'oggi è arrivata questa voce, più di un rumor che comunque avreste appoggiato il candidato, il vostro sostegno a Camillo D'Angelo. Ma noi il partito dà le indicazioni, poi sui territori naturalmente ci sono tanti amministratori civici che hanno deciso di prendere un altro tipo di strada, noi abbiamo lasciato l'elettorato soprattutto quello civico libero, civico di centrodestra, alcuni sono andati su Vagnoni in maniera naturale, altri sono andati su una candidatura che nasce al territorio come quella di Camillo D'Angelo. Qualcuno, qualche cattivo dice, ma c'è in gioco una vicepresidenza, probabilmente una delega che agognava da tempo il Costantini? No, io da quando ho riportato 6.700 voti ponderati nel 2022 e sono stato praticamente messo agli argini dalla coalizione centrodestra, ho detto sin da subito che il mio mettermi in gioco per la provincia non era assolutamente per qualche poltrone in più o in meno, poi deciderà naturalmente il Presidente, ricordando che sono l'unico sindaco eletto soprattutto del secondo o terzo comune della provincia di Teramo, però ripeto, non è importante questo, è importante che ci siano uomini e donne che da domani mattina si metteranno a lavorare per i propri territori. Che succederà adesso all'interno della Lega? Ecco ricordiamo, Costantini è coordinatore provinciale, non ci sarà nessun riberbero su questa scelta opzione? Assolutamente no, ha assistito allo spoglio con me il vice coordinatore regionale Emiliano Di Matteo, siamo contenti comunque per il risultato, ripeto, che ho ottenuto da Vagnoni e comunque, ripeto, si apre una stagione nuova in provincia che poi andrà naturalmente a ripercuotersi sui territori. Aspettiamo anche quelle che possono essere decisioni del Presidente che se vorrà dare rappresentanza, ricordiamo che in Consiglio siamo 7 a 5, quindi 7 consiglieri di centrodestra e 5 consiglieri di centrosinistra, io spero che ci sia un'equità nella ripartizione della Lega al fine di poter fare un'amministrazione provinciale, tra virgolette, di larga intesa.